Musica Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito gli argomenti che tratteremo in questa puntata. Il Consiglio regionale della Toscana ha votato una mozione a sostegno dell'approvazione del disegno di legge contro omofobia, transfobia e sessismo. La mozione è stata presentata dalla capogruppo dei 5 Stelle, Irene Galletti. Io ho sentito la discussione in aula e ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno e la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader Salvini e Meloni che una legge contro l'omolesbo e l'abilismo non sia una priorità, ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini, dei ristori e delle riaperture. L'informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale che tutela i diritti di tutti deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo. In Consiglio ho sentito un'arrampicata sugli specchi di Fratelli d'Italia che di fatto prende le distanze da quella che è una questione di giustizia, diritti e rispetto della nostra Costituzione. Abbiamo approvato due atti importanti, una mozione di sostegno a Malika per la vicenda che ha subito, insieme alla famiglia, un luogo dove ciascuno vorrebbe essere accolto e trovare la solidarietà necessaria ad affrontare il mondo e dove invece tanti ragazzi e ragazze sono costretti ad incontrare, ad affrontare i primi scogli e i primi confronti, soprattutto quando ciò riguarda la sfera intima della loro identità di genere e sessuale. Credo che sia giusto sottolineare di questo episodio di Malika, che riguarda Malika Castelfiorentino, il fabbisogno educativo della comunità intera, degli adulti e dei ragazzi, perché come qualcuno ha detto, ho letto sui giornali, anche i genitori di Malika hanno bisogno di aiuto, per imparare a capire e a direzionare il loro, credo in dubbio, amore mal espresso e mal gestito verso la loro figlia, che ha così bisogno invece e ha così necessità di un giusto riconoscimento per la sua persona e la sua espressione personale. Vieri, per l'appunto, in Consiglio c'era anche un atto a sostegno che promuoveva la calendarizzazione, chiedeva al governo la calendarizzazione, al Parlamento, scusate, la calendarizzazione del DDL ZAN. C'è stato un bel dibattito, devo dire, in cui si sono confrontati davvero due modi di pensare. Chi ritiene che, come, debba essere scontato, perché la Costituzione già lo dice, che non si debba discriminare e quindi che un DDL, una legge su questo, sia ultronea e chi invece, proprio partendo dalle cronache, dice che non basta l'affermazione di principio, è necessario attuare quei principi con leggi specifiche. Sono due temi completamente differenti sulla calendarizzazione del DDL ZAN. Per quanto sia competenza del Consiglio regionale decidere quando Senato e Camera debbano discutere i disegni di legge, abbiamo votato fermamente contrari, perché riteniamo che sia una proposta di legge, un disegno di legge non solo strumentale, non solo anche pericoloso, ma soprattutto assolutamente inutile in questa fase storica. Noi abbiamo fatto gli ultimi due consigli regionali barricati dentro il Palazzo, mentre fuori in strada c'erano decine e centinaia di lavoratori che chiedevano ristori, chiedevano aiuti, non mi pare che ci fossero fuori migliaia di persone a chiederci di approvare il DDL ZAN. Diverso invece è il caso di Malica, a cui va tutta la nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza. è folle, è vergognosa, è assurdo che nel 2021 ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali, dispiace ancora di più quando questi sono addirittura i genitori. Quindi a Malica tutta la vicinanza, la vicinanza nel giorno in cui purtroppo rilevo che Malica è caduta nella trappola di chi la vuole strumentalizzare politicamente, visto che mentre noi le esprimevamo solidarietà, lei sui social attaccava Giorgia Meloni. Vabbè, mi dispiace che si sia fatta strumentalizzare da questo. La invito a venirci a trovare in Consiglio regionale, mi piacerebbe confrontarmi tanto con lei. Sostegno a Malica e a tutte le persone che combattono per i propri diritti e la propria dignità. A dirlo Stefano Scaramelli e Maurizio Sguanci, consiglieri regionali di Italia Viva, che hanno predisposto l'atto che impegna la Giunta a sostenere economicamente la 22enne di Castelfiorentino, cacciata dalla famiglia perché omosessuale. Ringrazio i colleghi del Consiglio regionale, la Toscana tutta, il Consiglio regionale esprime solidarietà a Malica per quanto è successo, perché vuole metterla nelle condizioni di sentire il calore delle istituzioni toscane. Tutti i partiti politici presenti in Consiglio regionale hanno accolto il mio appello, quello di fare un atto forte del Consiglio regionale che esprimesse solidarietà a Malica, quanto persona in quanto tale in grado di esprimere ovviamente la propria sessualità, il proprio orientamento e allo stesso tempo anche fare un atto che impegnasse la Giunta per mettere in campo azioni di sostegno qualora necessarie a favore della ragazza per consentire a lei, come a tutte quelle altre situazioni che si possono verificare nella nostra regione, di esprimere la propria libertà, i propri sentimenti, la propria sessualità e soprattutto la propria libertà. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è terra di libertà e come tale. Questo è un atto importante, è il primo atto pubblico che un Consiglio regionale fa in questa direzione e mi auguro che ce ne siano anche altri di sostegno a favore di tutte quelle persone che magari possono essere discriminate ingiustamente per il proprio orientamento sessuale. Noi come gruppo di Italia Viva siamo assolutamente solidari a Malica, quello che è successo è una cosa che non dovrebbe mai accadere, non è possibile che nel 2000 una persona non abbia modo di poter autodeterminare se stessa, ma è ancora più incredibile che una persona che rivela ai propri genitori di amare un compagno o una compagna dello stesso sesso venga addirittura messa fuori di casa. È importante trovare una soluzione dal punto di vista legislativo perché quanto è accaduto è inaccettabile. Vorrei ricordare che era già prevista addirittura dalla Costituzione che un individuo avesse la capacità di autodeterminare se stessi. Quindi è importante che il Parlamento determini una legge che in qualche modo metta a riparo chiunque dalla discriminazione e possa dare a chiunque invece la capacità di affermare se stesso indipendentemente da quello che è il suo orientamento, soprattutto a carattere sessuale. Spero che questo avvenga nel tempo più breve possibile. Come Italia Viva abbiamo depositato una mozione. Adesso è stato votato un atto all'unanimità in Consiglio regionale. E' importante che la regione toscana si sia espressa in questo senso, in questo caso nei confronti di Malica, ma in senso più ampio nei confronti di chiunque abbia questo orientamento e quindi la possibilità di potersi esprimere. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri, ha annunciato che la regione si attiverà con il governo per predisporre ristori a tutte le attività commerciali ed economiche danneggiate nel giorno di San Valentino. E' stata approvata all'unanimità con alcuni emendamenti la mozione che abbiamo presentato sulle comunicazioni tardive del governo dell'entrata in zona rossa nel periodo di San Valentino. Le attività come ristoranti e bar e le attività appunto al commercio si erano preparate con scorte, con organizzazione del personale per questo evento che avrebbe in qualche modo aiutato a diciamo andare avanti in questo momento così difficile e purtroppo la comunicazione del venerdì sera ha vanificato tutti gli sforzi messi in piedi dalle attività e quindi non si tratta solamente del danno di non aver potuto svolgere la propria attività e quindi non aver ricevuto l'incasso ma anche una grande perdita a livello economico per quanto riguarda le scorte e i magazzini di tutte le materie prime che ricordiamo nel mondo della ristorazione sono anche biodegradabili quindi oggi con l'approvazione di questa mozione diciamo che abbiamo portato a casa un buon risultato per cercare di dare perlomeno un contributo a tutte queste attività danneggiate dal Covid. Rivedere le norme sulla responsabilità penale dei sindaci il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione del Partito Democratico. Il Consiglio regionale ieri ha scritto una bella pagina unanime di vicinanza ai comuni, ai sindaci e agli amministratori nel senso migliore del termine. Il Partito Democratico ha presentato una mozione nella quale si chiedono cose semplici riprendendo l'appello che il Presidente dell'Anci Nazionale De Caro ha fatto al Parlamento perché si modifichino alcune leggi che riguardano la responsabilità civile, penale e amministrativa dei sindaci e degli amministratori. Il fatto scatenante è quello di Piazza San Carlo a Torino dove la sindaca Chiara Appendina è stata condannata per quello che è avvenuto il 3 giugno del 2017. Ma di fatti come quello che riguardano la sindaca di un grande comune ce ne sono migliaia ogni anno in tutta Italia proprio perché i sindaci sono in trincea hanno responsabilità infinite e hanno talora anche attribuite delle competenze gestionali che se meglio precisate potrebbero sgravare gli amministratori da un fardello troppo pesante perché spesso a queste competenze formali non corrispondono poteri sostanziali. Abbiamo discusso e apprezzato una mozione presentata dalla maggioranza che chiede al Governo di intervenire normativamente per in qualche modo ridurre le ipotesi che oggi sono eccessive dal punto di vista delle fatti specie incriminatrici sulla responsabilità penale dei sindaci. Nel nostro Paese dalle leggi Bassanini in poi la responsabilità per gli atti viene sempre a carico dei dirigenti ma rimane il profilo di responsabilità a carico dei sindaci e dei presidenti della provincia perché sono considerati capi dell'amministrazione. Il caso è scoppiato per le vicende note del sindaco Appendino di Torino la quale è stata condannata per i fatti avvenuti in una piazza per i festeggiamenti di una squadra sportiva ci sembra francamente un eccesso considerato appunto non solo la differenziazione tra ruolo politico e ruolo tecnico-dirigenziale ma a maggior ragione questo comporta due contraddizioni una a livello delle città più grandi perché ogni sindaco ha migliaia di dipendenti e decine e centinaia di funzionari e dirigenti può anche non conoscere e quindi non è obbligato un sindaco a conoscere tutti i propri dipendenti ma soprattutto tutte le regole che devono essere seguite. Nei piccoli e piccolissimi comuni questa situazione sta generando un problema serio perché non ci sono più persone che si prendono la responsabilità di candidarsi e di guidare le comunità. Sicuramente oggi fare il sindaco è uno dei ruoli più complicati fare il sindaco espone tantissimi amministratori, anche giovani amministratori a assumersi la responsabilità anche dei fatti per i quali onestamente insomma una responsabilità diretta degli amministratori non è ascrivibile. Il messaggio deve essere chiaro, il governo deve farsi carico sotto questo aspetto di intervenire modificando il testo unico degli enti locali perché oggi lasciare esposti gli amministratori a responsabilità, ripeto, che sfuggono anche proprio dalla loro armi e ambito di controllo rischia poi di disincentivare anche l'impegno soprattutto dei giovani nell'attività amministrativa. Oggi non è facile fare politica, non è facile soprattutto assumersi le responsabilità che governare un territorio implica ed è necessario secondo noi che ci sia una proporzione rispetto all'impegno che viene chiesto sui sindaci, ai sindaci quotidianamente sul territorio nell'affrontare le emergenze rispetto a quello che sono le tutele che oggi li lasciano troppo esposti. La campagna vaccinale va ancora a rilento in Toscana. Certo c'è un dato che noi ci preme sottolineare da forza responsabile quale siamo. Se non arrivano i vaccini diventa difficile vaccinare. Abbiamo contestato in una prima fase alcune scelte della regione toscana. Non eravamo favorevoli a far vaccinare gli avvocati. Avevamo ragione, oggi gli avvocati non si vaccinano più. Abbiamo chiesto di vaccinare immediatamente gli over 80. La regione era indietro, oggi sta facendo con un sacrificio un avvicinamento a quello che è la media nazionale anche seppur in difficoltà e con dati peggiori della media nazionale. Avevamo chiesto di far vaccinare tutti i malati oncologici non soltanto quelli che hanno finito la chemioterapia o le cure entro i sei mesi ma di vaccinare tutti quelli che sono in follow up. Cioè tutti quelli che hanno i cinque anni previsti dal sistema sanitario nazionale e dal sistema sanitario regionale con i codici di esenzione. Il Consiglio regionale ha detto che avevamo ragione aspettiamo che anche il Ministro apra tutti perché diventa inaccettabile vaccinare solo una parte di quei malati. E mi domando, gli altri non sono super fragili? Ecco perché chiediamo due cose. La prima è che il Governo faccia un'operazione e acquisti le fiale vaccinali necessarie a vaccinare tutta la popolazione. Il secondo elemento è che la regione toscana si metta in riga faccia gli hub, faccia gli hub abbiamo chiesto, gli hub per ogni comune. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista. Grazie per la cortesia e attenzione. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.